9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via, 50, sinistra 3 lunga, per allo specchio sinistra 2 più lunga, via, 2 più lunga, subito destra 5, 50, ritarda destra 2 più lunga, gira, 2 più lunga, gira, ritardala, subito sinistra 4 lunga, 2 tempi lunga, chiudo 2 più, occhio interno, vai, subito destra 3, in alcantelli rovesci, destra 2 più lunga, subito, in sinistra 3, 3, subito destra 3, occhio interno, in sinistra 3 lunga, in al palo sinistra 3, 3, subito destra 4 allo specchio, chiudo 3, 50, la chiesa, destra 5 meno, vai su rotta, 5 meno, vai su rotta, in destra 4, in destra 4 ancora, subito, subito sinistra 2 più, 2 più, in attenzione, sinistra 3 lunga, sudosso, stai a destra, salta, subito sinistra 3 lunga, lunga, chiude, in alcantelli, inversione destra, occhio interno, occhio all'interno, vai, subito sinistra 3, subito destra 2, in sinistra 3 più, 100 a vista, destra 4 meno, occhio interno, 4 meno, occhio interno, subito, subito, destra 2 più, in destra 3, subito sinistra, destra 3, subito, subito, sinistra 2 più, subivio, 2 più, subivio, 50, alla fontana, destra 3 meno, via, 3 meno, 3 meno, in destra 5, occhio interno, subito sinistra 3, subito sinistra 5, poi, per sinistra 3 meno, lunga, chiude, 3 meno lungo chiude subito destra 3 meno taglia 3 meno taglia in destra 3 meno 3 meno subito sinistra 2 più subito taglia in destra 3 subito sinistra 5 subito sinistra 4 subito destra 5 100 destra 5 subito destra 4 5 poi 4 per destra 6 lungo chiude 5 meno 6 lungo chiude 5 meno subito sinistra 4 lungo lungo chiude 2 più subito ponte e gira, chiudo di più su ponte e gira, per, destra 2 più lunga, veloce e gira, destra 2 più lunga, veloce e gira, 2 più lunga, veloce e gira, in sinistra 5, intorno a destra, come prima, in destra 5, subito tornate a sinistro, 50, destra 5, subito sinistra 4, lunga, 2 tempi, occhio interno, occhio all'interno, subito destra 4, chiude 3 più, 4, chiude 3 più, 50, al cartello sinistra 5, lunga i cartelli blu, chiude 4 meno, chiude 4 meno, per, destra 4 più taglia, 4 più taglia, subito sinistra 4 meno, 2 tempi taglia, 4 meno, 2 tempi taglia, subito destra 5 taglia, 5 taglia, in sinistra 4, chiude 3, 4 chiude 3, subito destra 5, 2 tempi, 5 due tempi, in sinistra 4, subito destra 5 più, subito lo spiazzo, sinistra 3 più lunga, 3 più lunga, lo spiazzo, subito, subito destra 3, in sinistra 3 meno, 3 meno, 3 meno, subito destra 6, per sinistra 5 meno su dosso, subito, subito, il muro sinistra 3, 5 poi 3 subito destra 3 meno, lunga chiude 3 meno, lunga chiude in ritarda sinistra 3 meno ritardala, 3 meno 50, stai al centro, dosso dritto più 50 ancora via Array sinistra 5 stretta per 6 per Array ancora sinistra 4, subito subito in versione destra, occhio interno vai in destra 6 100 a vista destra 5, subito tornata a sinistro vai subito in versione destra attivo per sinistra 5 taglia in destra 5, lunga chiude subito a sinistra 3 meno, lunga 2 tempi su ponte per destra 4 meno 4 meno subito a sinistra 3 4 meno, subito a sinistra 3 per allo specchio ritarda destra 5, lunga chiude 4 scivola per destra 6 6 50, chiccan veloce entra a destra 100 via destra 3 subito a sinistra 3 meno 3 meno subito a destra 5, chiude 4 subito a sinistra 4 meno sudosso scarica subito a sinistra 3 più lunga 3 più lunga per sinistra 2 più lunga gira apre 2 più lunga gira e apre 100 destra 6 meno lunga 6 meno lunga 5, 12 meno 3 bravo Marco subito a sinistra 3 più lunga perché stai stato più concentrato? no ma non ti entrano molto no ma non ti entrano molto no ma non ti entrano molto grazie a tutti Grazie a tutti